Se ci spieghi come, giustamente, le motivi che portate qui per la provincia è a costituzione C'è una comunità del personale, che succede? La provincia è diventata l'area master, questo referendum incide sul destino di questi enti, del personale della provincia Sicuramente ha stati festi, diciamo così, di festi che è accaduta, questo referendum modifica il rapporto Stato-Legiori riattituendo il Capo allo Stato tutta una serie di competenze che erano state attivite alle regioni Questo si dice, questi sono degli elementi di maggiore annualia, si dice per rimediare agli errori della riforma del titolo quinto E' vero che quella riforma fu una riforma non indovinata per essere buona Ma se da una parte c'è la volontà di esautorare le regioni di tutta una serie di competenze locali che erano esercitate In alcune regioni bene, in altre regioni male, in altre regioni non erano affatto esercitate E allora si rimettono in capo allo Stato nazionale queste competenze proprio per spalificare un po' la situazione Allora a che serve una Camera delle regioni? Visto che il Senato di fatto dovrebbe svolgere questa funzione di raccordo Stato-Regioni Il raccordo finisce per essere quasi inutile, quasi neutralizzato In questo c'è una delle più grosse contraddizioni di questa riforma A cosa serve una Camera che dovrebbe essere addirittura la Camera alta Se poi di fatto le regioni vengono silenziate in tantissimi poteri? Questo è un po' il senso Io sono d'accordo sul fatto che la riforma del titolo V non fu una riforma indovinata Ma non fu una riforma indovinata per un motivo molto semplice Perché in uno Stato che territorialmente era molto diversificato Per cui c'erano regioni che di fatto erano meglio organizzate Avevano soprattutto più risorse C'era altrettanto la possibilità di gestire meglio i diritti sociali Che sono i diritti economicamente condizionati E' chiaro che in Lombardia la salute viene finanziata con molti più soldi Di quanto non può essere finanziata Non voglio parlare sempre della Galapia Non voglio parlare Non voglio parlare Di quanto non venga finanziata in una regione sicuramente più povera In Basilicata che stanno sicuramente meglio Ma altrettanto è evidente il fatto che se tu dai autonomia L'autonomia deve essere reale L'autonomia è reale e quando tu inseris l'autonomia dai le risorse Il federalismo si attuò con l'articolo 119 di allora In cui si disse apoditticamente Le regioni hanno risorse autonome Con le quali gestiscono di fatto tutte le competenze che mi sono demandate E' stato lì l'errore della riforma Allora il problema restava Nella varia attuazione piena a quella autonomia Dando alle regioni che avevano meno Ma che avevano un carico di gestione dei diritti Quindi di garanzia, dei diritti sociali La sanità che come sappiamo assorbe la maggior parte delle risorse Ma anche l'istruzione, anche l'avviamento al lavoro Dare a quelle regioni a cui si era dato questo carico Di gestione e anche di competenze legislative In parte qua Delle risorse che consentissero di pereguare il gap Con le regioni più ricche Non togliere competenze a tutti quanti Anche qui si svela il real senso La verticizzazione degli esercitori E' sempre lì Vale per la buona scuola dove il presidente manager decide tutto Vale per il governo dove decide tutto Chi si prende magari il pacchetto del 20% dei voti E se poi andiamo a guardare la percentuale reale In relazione a quanti vanno veramente a votare Vale per il datore di lavoro Perché di fatto è il gestore esclusivo del rapporto di lavoro E decide se lavori, quando lavori Con quanti soldi vieni pagato Se ti viene riconosciuto uno straordinario oppure no Vale anche per la nuova legge sui partiti politici Guardate che è stata fatta di fatto Una legge sul finanziamento dei partiti politici Che veramente è un'amberrazione In questa legge da una parte Dicono quali devono essere gli elementi Che garantiscono la democraticità Interna del partito politico Poi però astutamente che cosa fanno? Abbiamo tolto il finanziamento pubblico Di fatto se volete il finanziamento pubblico Che rappresenta quei due per mille Che può essere devoluto ai partiti politici Dovete rispettare tutta una serie di norme Però se avete dei finanziatori privati Potete anche non dirlo Noi non vi costringiamo a dire che finanzia privatamente E allora là tutto il discorso che abbiamo fatto Anche nella famiglia che mi ha detto preceduto Trova il suo pieno compimento Il mio 2 per mille è molto interiore rispetto al 2 per mille Di un grosso imprenditore Ma soprattutto è molto interiore Al finanziamento privato e nascosto Che nessun partito politico Ha l'obbligo di segnare il bilancio E che non consente al cittadino Di sapere chi ti dà i soldi Chi è il tuo vero finanziatore Tu per chi lavori fondamentalmente Quindi vedete come la strategia Questo filo rosso Di cui parlava il presidente dell'Api locale Si ritrova in tutto Noi questo filo rosso Dobbiamo farlo emergere Dobbiamo aiutare i cittadini Proprio a unire i puntini Avete visto i giochini che si fanno Sotto un'opera zona destra Uniamo i puntini Visto che sono abbastanza evidenti Questi puntini E penso che siano poi gli argomenti Che interessano di più Probabilmente Se noi facciamo questo discorso Riusciamo anche a smuovere Quelle persone che come Dicevi tu prima Scusami Scusami tu Hanno diciamo così Una certa comodità A non prendersi la responsabilità Di decidere Io penso che la società funziona Come il sistema dei vasi comunicati Nel senso che tu puoi avere un vivo politico Ma prima o poi anche tuo figlio Sarà costretto ad andarsene all'estero Perché non riesce a trovare Un posto di lavoro adeguato In Italia Quindi prima si fa capire Questo discorso E prima le persone Faranno quel salto di qualità Verso la responsabilizzazione Che impone Una società democratica matura Scusami Scusami Se vince il no Si blocca il supermercato del novincio No Perché quello è già No Quello è già Dato 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 Dato